Gesto a sorpresa che lascia tutti di stucco praticamente. Argomento del momento, cari amici, grande fratello VIP, l'attenzione mediatica adesso è su Rihanna Marzoli, e quindi è suo questo gesto. Ma stando alla classifica resa nota sul sito Bici, sembra proprio che la geffina sia tra le favorite al primo posto. Oh, parliamo di primo posto, signori. E allora, nell'attesa di scoprire chi sia davvero, se sia davvero lei a portare a casa il premio finale, la modella continua intanto la sua avventura tranquillamente nella sua casa, anche se tranquilla fino a una certa, perché c'è la tensione della finale. E allora vedremo cosa succederà, ma parliamo d'altro. Oriana Marzoli sensuale in cucina. La geffina ha una femminilità fuori discussione e la sua bellezza ha fatto breccia in molti cuori. Nelle ultime ore avrebbe deciso di stupire i fan e non solo. Persino Alberto De Pisis avrebbe ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito dalla, trovata, a dir poco geniale e coinvolgente. Detto fatto, tutti l'hanno vista così in cucina. Oriana Marzoli intacchi a spillo in cucina. La modella venezuelana colpisce nel segno ancora una volta. Chi ha detto che le pulizie di casa non possano farsi con un vestiario originale? Ci ha pensato Oriana a dimostrare che è possibile, decidendo di passare il mocio in cucina su tacchi a spillo. Non si è trattenuto dal commentare la scena a sorprese il concorrente De Pisis che ha esordito dicendo, questa iniziativa che hai preso questa sera mi fa impazzire. Devo dire la verità. Ovviamente la scena è stata vista anche fuori dalla casa e infatti su Twitter è stata ampiamente commentata. Quando la chiamano per pulire, lo fa praticamente sempre, molto più della media delle persone passate da quella casa. Oriana Marzoli, in ogni caso, sta portando a termine un'esperienza televisiva a dir poco entusiasmante e questo al di là dei risultati. Lo stesso Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, la scorsa settimana avrebbe profetizzato il destino della concorrente. Oriana secondo me vince, o comunque arriva alla finalissima. Lei è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei, sono state le parole del Gieffino. Adesso per i fan e per i concorrenti si avvicina la resa dei conti. Il pubblico italiano non aspetta altro che scoprire il nome del finalista del reality show e chissà se le previsioni ci hanno visto bene. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.